Il San Nicolò ospita al Bonolis per l'undicesima del Girone F, i Romagnoli dell'Alfonsine. Ancora senza Napolano, fermo per una fastidiosa pubalgia, Epifani schiera nel suo 4-2-3-1 bisegna trequartista con chiacchiarelli a sinistra e massetti a destra a sostegno di Traini, terminale offensivo. Candeloro risponde con un 4-4-2 con Innocenti ad ispirare il centrocampo e in avanti la coppia Tosi-Battiloro. Dopo un minuto e mezzo subito ospiti pericolosi, proprio con il giovane Battiloro che prova ad impensierire Ciotti con la sfera che termina di poco sul fondo. Occasionissima per i locali al decimo con Traini che raccoglie l'invito di chiacchiarelli dalla destra e in corna di testa ma Calderoni distinto si salva alzando oltre la traversa. Lo stesso numero 1 Romagnolo si ripete nove minuti più tardi deviando provvidenzialmente la gran botta dalla distanza di Bisegna che aveva ricevuto da Traini. Al 26esimo Tosi si invola sulla sinistra per poi andare in rete ma viene fermato in posizione di offside, una posizione da rivedere. Alfonsine pericolosissimo al 39esimo quando Battiloro coglie in contratempo il San Nicolò e provvidenziale su di lui la chiusura in out di Milillo. Ma proprio quando la prima frazione sembra debba concludersi a rete inviolate al 45esimo il San Nicolò passa. Traini dalla destra appoggia di testa un pallone apparentemente innocuo. Cmangui va in copertura col corpo ma Bisegna è velocissimo ad anticipare il difensore Romagnolo e depositare in rete per l'1-0 e il quarto gol stagionale per il numero 10. Si va così negli spogliatoi con il San Nicolò in vantaggio per una rete. In avvio di ripresa la squadra di Epifani è subito pericolosa. Bisegna apre per Massetti il cross in mezzo per Traini che viene anticipato in extremis. Al quinto Bisegna già diffidato si fa ammonire e salterà la prossima partita in una settimana in cui il San Nicolò dovrà giocare sia mercoledì il recupero della gara contro la San Maurese che la trasferta di domenica prossima a Iesi. Sulla successiva punizione Innocenti c'entra in pieno il palo. Sono brividi per il San Nicolò che rischia anche al 27esimo quando Manuzzi si invola per vie centrali e cade al limite dell'area. Ma il direttore di gara ammonisce per simulazione il numero 4 tra le proteste romagnole. E al 34esimo il San Nicolò sigla la rete del 2 a 0. Lampo dei locali con un'azione personale di De Gidio è entrato in corsa per Massetti che si accentra e in sacca a fil di palo firmando la prima rete stagionale. Al 38esimo Mozzoni potrebbe siglare anche il Tris ma Calderoni gli chiude lo specchio. Botta in risposta nei minuti finali. Prima De Gidio impegna Calderoni, poi su Rossetti Ciotti devia in corner. Il San Nicolò così, pur senza brillare, conquista il sesto risultato utile consecutivo, consolida il quinto posto e apre bene una settimana sicuramente intensa. Si complica invece la situazione per l'Alfonsine che perde in trasferta da quattro turni stazionando al penultimo posto con Pineto e Re Canatese e mister Candeloro si lamenta di alcune decisioni arbitrali. Io posso solo dire che sono veramente orgoglioso di allenare questa squadra perché con mille difficoltà siamo venuti qui, le ultime tre gare ce la siamo giocata quantomeno alla pari con Agnonese, Jesina e anche oggi perché sfido chiunque oggi dire che noi siamo stati inferiori al San Nicolò e sappiamo tutti benissimo il San Nicolò, il budget che ha, le aspettative che ha, quindi io sfido chiunque a dire che oggi siamo stati inferiori. Che cosa è mancato dunque a questa squadra per fare il risultato oggi, mister? È mancato quello che probabilmente abbiamo poca esperienza nella categoria e soprattutto non ho mai parlato, non ho mai detto nulla, però mi piacerebbe sicuramente rivedere alcune situazioni, molto molto dubbi, il gol di Magliossi, io adesso non ho rivisto ma mi dicono i ragazzi che era valido, il presunto fallo del rigore su Manuzzi il ragazzo mi ha appena detto che è stato toccato perché se no davanti al portiere. Il loro primo gol, il fallo laterale, era il nostro, quindi mi piacerebbe rivedere tutte queste situazioni e poi a fine gara provare a vedere il risultato come sarebbe stato, perché non so se voi avete rivisto il gol di Magliossi se era in fuorigioco o no. Quindi mi piacerebbe rivedere tutte queste situazioni e messe dietro l'una l'altra, poi è chiaro che ci sono stati anche i nostri errori sul loro primo gol, ma se il fallo laterale lo dà noi probabilmente il primo gol non c'è. Quindi io ho poco da dire sul risultato, il risultato è veramente bugiardo. Perché veniamo anche da una partita dove a Pineto abbiamo fatto benissimo, creando tantissime occasioni da gol e le abbiamo portate a casa a un punto. Oggi non abbiamo fatto sotto la solita nostra partita, però questo è il campionato. Questa è un'altra ennesima partita di insegnamento di questo campionato di quest'anno, perché quando le partite possono sembrare facili e incontri una squadra che sta sotto puoi pensare che la vinci tranquillamente, ma invece non è così, perché tutte le squadre sono organizzate, loro hanno fatto una buona gara, però sono partite che servono perché sono tre punti e dobbiamo pensare che ogni tanto bisogna vincere anche così. Il tecnico Candeloro si è lamentato un po' per qualche decisione arbitrale. Mister Epifani cosa dice? Non so quali episodi si riguarda, io commento la partita, credo che alla fine abbiamo meritato di vincere perché abbiamo fatto due gol, contro una squadra che nonostante la classifica ha dimostrato che ha fatto una buona partita, però per fare dei grandi campionati bisogna passare anche da queste partite.